del match, andiamo a bordo campo. Sul cronometro mancano 5 minuti al novantesimo. D'accordo Matteo, grazie, richiedici pure la linea in caso di ulteriori novità. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. Si libera della... Attenzione pericolo! Ed è rete! Traguardo importante è quello dei 50 con questo club, può andarne giustamente fiero. Gara che sta...